Buongiorno, bentrovati, bentrovati a chi ci ascolta dalla radio, bentrovato a chi ci sta seguendo via Facebook. Mi raccomando, condividete il link della diretta social. Siamo qui per dare il benvenuto a padre Ibrahim Faltas, francescano, vicario della custodia di Terra Santa. Allora, padre Ibrahim è qui a Roma per un motivo bellissimo, perché sono giunti 11 bambini da Gaza che sono stati distribuiti, passami il termine, in vari ospedali italiani. Quattro si trovano al bambino Gesù di Roma, dove sono arrivati l'altro ieri sera, alle 11 di sera, anzi poco prima forse, con un volo militare. Allora, padre Ibrahim, che gioia, che gioia, vero, per questi bambini, ma anche per voi che avete fatto in modo che potessero arrivare qui. Gioia per i bambini, soprattutto perché hanno detto i bambini sono usciti dall'inferno e sono venuti qui, nonostante che anche sono negli ospedali. Quattro nel bambino Gesù, tre a Genova, tre al Mer di Firenze e uno al San Camillo di Roma e con 13 accompagnatori. E veramente dovevate vedere la gioia di questi bambini quando sono arrivati, nonostante quello che hanno visto, hanno vissuto, hanno detto che sono usciti dall'inferno. Hanno veramente bambini che dicono questa parola e sono arrivati al paradiso, nonostante che sono negli ospedali, che stanno soffrendo anche di malattie, di ferite, di varie... Quali tipologie hanno questi bambini? Perché sono stati ricoverati? Tutti uno diverso dall'altro, tutti veramente hanno bisogno di tutto, hanno bisogno anche del momento, della situazione in cui hanno vissuto, ma non solo loro, anche accompagnatore, deve vedere l'accompagnatore, deve sentire la storia di queste persone, uno che ha perso 26 persone della sua famiglia e uno che anche non hanno dato il permesso per una ragazza al padre, alla madre, hanno dato il permesso, è venuta una ragazza a 14 anni con la sorella che ha 16 anni. E' tutte storie triste, molto molto triste, nessuno può immaginare le storie che potete sentire di queste che sono arrivate. E poi, prima di fare l'intervista adesso, veramente ho avuto una bellissima notizia che la nave è partita adesso dall'Egitto. E' una nave con altri bambini ed altri adulti palestinesi. Altri adulti feriti, altri accompagnatori, bambini, tutti insieme, sono 62 che arriva il 4 a Scevità Vecchia, qui, e poi stiamo lavorando per anche far partire, forse venerdì, un altro aereo con 30 persone, anche i bambini. E veramente approfitto l'occasione, voglio ringraziare il governo italiano che tutti hanno lavorato, veramente voglio ringraziare dal cuore perché hanno fatto tanto per questi bambini. Non potevamo fare tutto questo senza il governo italiano. E per questo, dalla parte di tutti i palestinesi, di tutti questi bambini, ringraziamo il governo italiano, anche il ministro dell'Estere che è venuto anche a ricevere i bambini lunedì sera, tardi. E allora veramente voglio ringraziare il governo per tutto quello che ha fatto e farà anche l'Italia e tutto il popolo italiano che veramente sta facendo tanto per questa causa. E speriamo che questo esempio lo seguano presto anche altri paesi europei. È quello che vogliamo, Italia è sempre il primo paese che ha fatto questo e speriamo che tutti possano seguire l'Italia, che possano anche ricevere anche i nostri bambini, come ha fatto l'Italia, fanno tutti gli altri. Il Papa non perde mai una possibilità, un'occasione per ricordare il dramma che sta vivendo la Terra Santa. Anche oggi, proprio poco nei saluti, dopo l'udienza, ha chiesto, ha invocato al Signore la pace. Ecco, quanto è importante per voi della custodia, ma per tutti, avere questa presenza così accanto, questa voce del Papa che vi ricorda ogni giorno? Il Papa è sempre vicino, sempre l'unico che sta gridando, l'unico che è stato il primo a chiedere, cessate il fuoco, l'ha detto tante volte e continua a dire. Lui che ha ricevuto anche i familiari degli ostaggi, lui ha ricevuto anche la gente di Gaza che quando sono venuti qui. e in quel giorno anche io l'ho incontrato, ho visto come è triste, come sta male, come veramente sta al cuore questo problema, questi bambini che vede che stanno morendo, che è la gente che sta morendo. E dico, sempre, sempre è stato vicino. Io mi ricordo anche da quando è diventato Papa, quando è venuto nel viaggio suo in Terra Santa, adesso quest'anno, dieci anni, quando è venuto, ha fatto del tutto per far incontrare il Presidente palestinese, il Presidente israeliano, in Terra Santa, non è riuscito. Una settimana dopo è venuto qui, che ha chiamato tutti e due, il Presidente Abou Mazen con il Presidente israeliano Shimon Peres, e sono venuto qui, hanno piantato un albero di olivo. E quest'anno, quest'anno, dieci anni di questo fatto. Allora, il popolo non vive soltanto da adesso, da questa guerra, ma veramente vive questo problema da tanto tempo. Almeno dieci anni che sta lavorando per risolvere questo problema. Io lo so molto bene e lui sta lavorando ogni giorno per questo. Tante volte abbiamo incontrato, tante volte ho incontrato il Presidente Abou Mazen. Forse il Presidente Abou Mazen è stato ricevuto dal Papa almeno cinque volte. Io ho portato tante volte lettere dal Presidente Abou Mazen al Papa e sono molti amici, tutti e due. Lui era molto amico anche del Presidente Peres, del Presidente israeliano attuale. Allora, stanno facendo del tutto per risolvere questo problema e speriamo che ascoltano gli appelli che sta facendo il Papa. Io chiedo da tutti i potenti del mondo che seguire anche il Papa, che ascoltano gli appelli che sta facendo per questa causa. Allora, Padre Ibrahim, ci arrivano delle domande da Facebook e invito tutti a porcele. Allora, Rosalie scrive, in mezzo al dolore una luce che porta speranza. Quindi l'arrivo di questi bambini è qualcosa che illumina un po' tutto. Non si tratta soltanto di questi undici bimbi, ma si tratta proprio che finalmente c'è una notizia che non è quella di morte che noi stiamo ormai sentendo da giorni, da mesi. Questa è la speranza. Questi bambini che sono venuti qui sono stati salvati dalla morte. Dobbiamo dire che sono salvati dalla morte. Non potete immaginare quante volte abbiamo cambiato la lista. Perché nella lista, mentre stavamo a partire, i ragazzi morti. Morivano in attesa di poter partire. Morivano in attesa i bambini. E' veramente una cosa incredibile. Non si può immaginare. Nessuno può immaginare la situazione in cui vivono le persone. E' questo. E stiamo salvando quello che possiamo. Ogni giorno muoiono centinaia di persone, centinaia di bambini. E guardate i numeri. Anche i numeri ufficiali non sono dati. Sono molti di più. I numeri ufficiali sono adesso forse 27.000 persone che sono morti. Ma sotto le macerie, anche bambini, gente che per le strade o morti non hanno una spoltura degna. E tantissimi non sono registrati. Sono molto più di 30.000 persone che sono morti. E sono molto più di 65.000 persone che sono ferite in grave. E non hanno la possibilità di essere curati. E tantissime, 400.000 persone prendevano la medicina. Adesso non prendono più. Non c'è la medicina. Non c'è l'acqua. Non c'è il cipo. Non c'è niente. E io ho visto... Sicuramente avete visto la gente. Fanno il cipo, la cucina con l'acqua della pioggia. E veramente non c'è l'acqua. Potete immaginare che aspettano l'acqua dalla pioggia per fare il cipo. Possiamo solo immaginare perché è vero che arrivano le immagini, ma nessuna immagine sarà mai come quello che sta vivendo Gaza, che in realtà avviene a Gaza. Voi riuscite ad avere un contatto diretto con chi è lì tutti i giorni, quotidiani? Certo che conosciamo la gente. Parliamo con la gente. Tutti i giorni. Ogni giorno parliamo. Parliamo anche con la gente che sono nel convento della Sacra Famiglia, che sono 600 cristiani. Che sono ancora lì dentro. Sono 600 persone che sono nel convento, mangiano, dormono, bevono, fanno tutto. Nel convento 600 persone, adesso quasi da quattro mesi. Deve preparare per loro da mangiare, da andare al bagno, da fare la doccia, di fare tutto. Qualcuno non può immaginare che ha ospite 600 persone che non ce ne erano letti, non c'era niente. Con questo freddo, con questa pioggia, con questa situazione. E 200 ancora anche nel convento greco-ortodosso. E questa è la situazione. Ricordiamo anche che ci sono state delle vittime tra i cristiani che erano proprio nel convento. Certo, le vittime sono dappertutto. Certo, alla fine non si fa differenza. Adesso sono cristiani, musulmani, ebrei. Sono tutti. Nessuno sta bene, nessuno è contento. Tutti stanno soffrendo e tutti hanno perso i loro cari. Palestinesi, israeliani, cristiani, musulmani, ebrei. Tutti, tutti. Non possiamo dire che uno è stato salvato. Tutti stanno male, vivono male. Vittime dappertutto. Sono morti ebrei, cristiani, musulmani, palestinesi, israeliani. E sono vittime dappertutto. Non soltanto a Gaza. Tutto concentrato su Gaza, ma anche nel Cisjordania. Nel Cisjordania più di 400 persone che sono state uccise. Anche tantissimi arrestati. E tantissime distruzioni. Anche nel Cisjordania è terribile. Nel nord, nel nord anche, dove Nazareth, Cafarnaum, tutto questo. Anche la guerra con Hezbollah. La gente ha paura. Arrivano sempre i missili. E c'è la guerra anche lì. C'era la guerra nel sud, la guerra nel nord. Nel Cisjordania, guerra dappertutto. Il problema è che i civili non vogliono questo. Cioè, il problema è proprio a livello politico. Nel senso che comunque le persone vivono la sofferenza. Vivono i loro morti. Perché, come dicevamo prima, uno dei papà che hanno accompagnato questi bambini ha perso 26, hai detto, 27 persone della sua famiglia. E come lui tantissimi. Quindi le persone non vogliono. La pace ha bisogno del coraggio. La pace ha bisogno del coraggio. Ma in questo caso il coraggio di chi deve essere? Dai potenti del mondo. Dai potenti del mondo devono avere coraggio. E volontà. Volontà. Anche umiltà. Anche umiltà, se vuole. Se vuole che possono anche vedere tutto quello che sta succedendo davanti ai loro occhi, che possono dire qualcosa, possono fare qualcosa. Non dire, fare qualcosa. Ma anche io dico a loro, un appello a tutti loro, se non risolvono il problema con tutte queste vittime, di tutti, palestinesi, israeliani, se non risolvono il problema adesso, non sarà risolto il problema della Terra Santa. Con tutte queste vittime, allora quando sarà? Non sarà mai. Questo è il momento. Questo è il momento di risolvere questo problema. Questo è il momento di avere il coraggio di dire pasta dopo 75 anni. Questo è il momento di fare qualcosa. Non è parlare soltanto in parole. Tutti dicono, forse tutti non hanno detto c'è stato il fuoco, ma tutti hanno detto la soluzione di due stati. La soluzione di due stati. Perché vorrei anche ricordare che su una popolazione totale di 2 milioni e 400 mila persone, 1 milione e 700 mila sono sfollati. Quindi c'è un enorme problema anche per il dopo. Abbiamo pochissimo tempo. La ricostruzione, padre Ibrahim, la ricostruzione di Gaza, attraverso cosa deve passare? È possibile immaginarla per come vediamo oggi la situazione? Possibile. Tutto possibile. Tutto possibile. Ma devono fermare questa guerra? È tutto possibile. Come costruiscono se ancora c'è la guerra? Non riescono a fare la tregua. E fino adesso abbiamo sentito tante volte che ci sarà la tregua, le trattative a Parigi, le trattative a Nostra. E ancora non arriva. Non arriva. L'importante è che tutto si può fare. E noi con questi bambini veramente abbiamo fatto miracoli. Perché portare questi bambini deve parlare con tutto il mondo, con tutti gli israeliani, ingiziani, palestinesi, italiani, tutti. Ma si può fare. Ma l'importante è in questo momento fermare la guerra. Cessate il fuoco. Allora, concludiamo proprio con questo. L'importante è un appello a cessare il fuoco. L'importante è avere coraggio e umiltà per fermare questa tragedia immane. Grazie a tutti per averci seguiti. Grazie. Grazie.